La persona da cui erano stati tagliati di problemi all'utero. Peccato che il malato avesse i baffi e fosse un uomo. Per accedere alle conoscenze soprannaturali, Anna D'Amico si faceva magnetizzare dal marito Pietro. Sulla sua tomba Anna D'Amico è ricordata come la chiaroveggente più rinomata del secolo diciannovesimo. L'uomo è oggi ricordato come maestro insuperato della mesmerica scienza, ebbe onori e fama mondiali. Ma per ironia della sorte, la candelina elettrica sotto l'uomo è spenta. Quella sotto la donna è accesa. Se volete rendere omaggio a questa coppia, li trovate al cimitero della Certosa di Bologna, chiostro numero 8.